... Adesso c'è l'11, sta arrivando Cameron Donald, Cameron Donald sta spingendo C'è anche la metà, non è contatto, non viene contatto se parti avanti o indietro No, è un passaggio Qui, come la città, bisogna anche andare a scuola e andare a scuola C'è un po' più forte E' talmente vario il circuito che sai C'è chi magari è più forte e andrà a montare o c'è chi magari è più forte sotto 18 minuti 59.69 109